Restano freddi i rapporti all'interno della maggioranza del comune di Pescara fra i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia, alla base dei contrasti le divergenze su quelle che sono ritenute le priorità per la città. E per la Lega oggi gli eventi non rappresentano una priorità, così come invece la manutenzione delle strade e i servizi al cittadino in un momento di crisi economica. Il processo di decisione sulle poche risorse che avremo a disposizione, che saranno oggetto di una variazione di bilancio, saranno comunicate dopo che l'intera maggioranza ha deciso come impiegare queste risorse. Noi riteniamo che buona parte di queste risorse debbano essere impiegate sul tema della manutenzione stradale, della segnaletica stradale, del decoro della città. Il che non vuol dire che non debbano essere impiegate anche per realizzare eventi, ma in questo momento riteniamo che la manutenzione della città sia prioritaria rispetto alle altre questioni, poiché la città di Pescara è comunque da qui a settembre piena colma e stracolma di tanti eventi, quindi siamo convinti che Pescara sarà attrattore e soprattutto attrattiva di tante persone per l'amore di eventi pubblici e privati che ci sono in città. Il capogruppo leghista in comune a Pescara, Vincenzo Dincecco, non entra nel merito del lavoro dell'assessore ai grandi eventi, in quota Fratelli d'Italia Alfredo Cremonese, dicendo che fra due anni a giudicare saranno i cittadini. Il lavoro di questa amministrazione è un ottimo lavoro perché su tanti fronti ci stiamo impegnando a risolvere problematiche a nostra, ma è altrettanto chiaro che in un momento come questo, in cui usciamo da una crisi finanziaria che probabilmente abbiamo parzialmente risolto con i 12 milioni e 4 della rata mutuo che riusciamo a recuperare, grazie al nostro impegno importante a livello di governo, noi non possiamo non rilevare il fatto che ci sono delle priorità rispetto alla manutenzione della città. Io non giudico il lavoro di nessuno perché saranno i cittadini fra due anni a giudicare il lavoro di tutti noi insieme. Su questo siamo tutti convinti e siamo tutti d'accordo.